C'ho 14 anni e non ascolto Salmo L'altro giorno ho visto la classifica di Spotify Sai che ha fatto la classifica degli ultimi 10 anni E' stato particolare vedere le prime tre posizioni Che sono esattamente le tre generazioni a scalare La generazione di Dogo, di Marra, di Fibra, eccetera eccetera Quella dopo che era la mia generazione Quelli un po' più piccoli Quindi io, Emi Schilla, Ensi L'ultima generazione è quella di Sfera Che sono messi Sono proprio